In diretta, lo spettacolo a benizio, il pubblico è fatto alle mani a ritmo, sulle mani, sulle mani, forza, sulle mani. In diretta, lo spettacolo a benizio, il pubblico è fatto alle mani, sulle mani, sulle mani, forza, sulle mani, forza, sulle mani, forza, sulle mani. In diretta, lo spettacolo a benizio, il pubblico è fatto alle mani, sulle mani, forza, sulle mani, forza, sulle mani. In diretta, lo spettacolo a benizio, il pubblico è fatto alle mani, forza, sulle 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 mani. In diretta, lo spettacolo a benizio, il pubblico è fatto alle mani, forza, sulle mani. In diretta, lo spettacolo a benizio, il pubblico è fatto alle mani. In diretta, lo spettacolo a benizio, il pubblico è fatto alle mani. In diretta, lo spettacolo a benizio, il pubblico è fatto alle mani. In diretta, lo spettacolo a benizio, il pubblico è fatto alle mani. In diretta, lo spettacolo a benizio, il pubblico è fatto alle mani. In diretta, lo spettacolo a benizio, il pubblico è fatto alle mani. Grazie per la visione 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 Grazie per la visione